Buongiorno Randoni è qui con noi per parlarci di Special Olympics e anche la Serie A in questo momento sta ricordando Sì, oggi tutte le partite della Lega di Serie A inizieranno portando uno striscione di Special Olympics in campo ci saranno queste sciarpe, gli arbitri penso con delle magliette, tutto per promuovere l'European Football Week che si terrà dal 18 al 26 maggio con ovviamente una settimana interamente dedicata al calcio che si tiene in tutti i paesi europei e poi grazie proprio a questa iniziativa le squadre di calcio di Serie A oggi doneranno maglie autografate, palloni autografati che da domani saranno sul sito, su ebay, su internet, tutto è ricavato, verrà dato a Special Olympics per aiutare per queste manifestazioni, insomma per contribuire a creare queste manifestazioni in tutta Italia Poi ricordiamo la Serie A questo weekend, il prossimo la Serie B, grazie, grazie a Paolo Vittoria Eccoci Sei vestito a quadri, lui di solito ti apprezza di nero Invece mi ha apprezzato molto Gabriele